Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino, il complesso religioso della chiesa di San Pio che si intravede in questa bella giornata di sole, di questo novembre del 2020, vogliamo raccontarvi quanto accadeva nel novembre del 1911 quando Padre Pio era di convento a Venafro. Si trovava a Venafro perché un illustre medico aveva decretato la sua fine, quindi aveva consigliato i cappuccini a portarlo nel convento più vicino, Padre Benedetto ebbe questa idea di accompagnarlo a Venafro, oltre che uno dei conventi più vicini a Napoli dove fece questa visita il giovane cappuccino, ma allo stesso tempo continuare gli studi con i suoi compagni, gli studi di sacra eloquenza dove lì vi era il suo padre lettore, padre Agostino da San Marco Illamis, ed è lo stesso padre Agostino che nel suo diario ci racconta tutta questa straordinaria ed importante presenza di Padre Pio nel convento di Venafro. Furono circa 40 giorni che passarono la storia come una vera e propria quaresima, perché il giovane Padre Pio, giovane sacerdote da un anno, si trovava a combattere col demonio, allo stesso tempo aveva delle visioni celestiali della Madonna, di Gesù, di San Francesco, di San Giuseppe, ma allo stesso tempo viveva una serie di doni come quella della scrutazione dei cuori. Cosa accadde? Durante una di queste colluttazioni con il demonio nella sua celletta a Venafro, venne ritrovato dai suoi confratelli, potete immaginare come, nella sua stanza, ma allo stesso tempo padre Agostino temeva per la morte di questo giovane frate e subito, viste le sue condizioni veramente pessime, andò in coro a pregare per la sua anima e soprattutto stette lì anche a pensare a che cosa dire per l'elogio funebre di questo giovane frate che aveva tra i suoi studenti. Subito dopo tornò nella stanza del Cappuccino e lo ritrovò giulivo, faceto, tranquillo, e subito padre Pio disse a padre Agostino, padre Agostino non ti devi preoccupare per me perché non è ancora arrivata la mia ora, tu stavi già pensando al mio elogio funebre.